Siamo arrivati, siamo in the main square of Pluaghe, dove ci sono ben tre chiese, come vedrete nella posta. Tre in un'unica piazza. Tutte e tre vicine. Perché Roby secondo te è questo? La Trinità. Raccetto, non mi chiedere queste cose perché non lo so. Una sappiamo che la chiesa è di San Pietro ed è questa, la principale. Vediamo alle nostre spalle. Una è piccolina piccolina. E sarà San Pietrino. San Pietrino, ci sta. L'altra è uguale. No, sono diversi, sono uguali. Sono simili. Sono simili. La sarà San Pietro, San Pietrino. No, vabbè, è pare brutto nei confronti di Pluaghe. Esatto. Pare brutto, non lo sappiamo, però è bellissimo. Devo dire, poi c'è un panorama splendido. Sì, di là. Da là, sulla parte là. Perché possiamo dire che Pluaghe sta proprio su un cucuzzolo, su una sorta di collinetta che si affaccia poi su tutta la valle che guarda verso Quadrongianos, verso Florinas. Verso Florinas. Verso Muros. Cargeghe. Sì, se là c'è Florinas, senz'altro. Poi vi faremo un giorno vedere. Comunque no, la particolarità sono proprio come se tre chiese una vicino all'altra. di cui la più importante si chiama San Pietro, come già detto. Tutte saranno tutte consacrate. Penso proprio di sì, perché se uno guarda, c'è in ognuna, c'è proprio anche l'etichetta. L'etichetta. Vabbè. Per capire se una chiesa è consacrata o no, dovete cercare l'etichetta della consacrazione. No, vabbè. Ci vediamo la prossima volta, facciamo così. Ci vediamo direttamente a casa di Giovanna Maria. Maria e Sebastiano. Va bene? Ciao, ciao.